Grazie a tutti Allora, perciare altre storie voglio farvi vedere un'altra famiglia E volete sapere chi sono? Una famiglia che è politicamente scorretta C'è un padre di famiglia, una madre, tre figli Dal più piccolo che non ha neanche due anni Al più grande che avrà circa 16 anni ma è poco considerato E neanche un cane parlante in famiglia, chi? Ci tratta mica della mia famiglia? Noi siamo la famiglia più famosa della televisione Non sei tu, tornatene a Springfield a ciucciare tutta quella birra da due soldi Ma che tristezza, papino mangia la torta e diventa obeso E infatti la prossima famiglia sarebbero i Griffin Famiglia americana politicamente scorretta Che da molti anni, anzi proprio quest'anno nel 2016 Compie appunto 20 anni Ma quando è che è cominciata la loro famosa storia? Possiamo dire semplicemente che Il loro primo videogame si tratta di Family Guide Videogame Uscito per Xbox, Playstation 2 e Playstation Portable Un piccolo gioco d'azione disegnato in cell shading Come è stato per Futurama Che non ebbe purtroppo successo perché aveva qualche piccolo problema nel gameplay Poi nel 2009-2010 uscirono due giochi per i sistemi EOS Chiamati Family Guy Uncensored e Time Warped Titoli carini ma niente di speciale Poi è uscito anche addirittura un gioco per i sistemi browser Come Family Guy Online nel 2012 Poi fortunatamente per vedere qualcosa nel console C'è Ritorno al Multiverso Rilasciato per Xbox 360, Playstation 3 e PC E l'ultimo titolo dedicato a questa famigliaccia Si tratta di Family Guy The Quest for Staff Rilasciato per i sistemi EOS e Android E questo è più un RPG Questo è quanto Pochi ma buoni E del mercato promozionale allora Che vi devo dire? Chi sono i Griffin? O Family Guy? Un cartone animato televisivo Creato da Seth MacFarlane Un disegnatore che Prima di creare questa sua serie televisiva Aveva lavorato a moltissimi altri prodotti televisivi Vi faccio un esempio A fine anni 90 lavorò moltissimo A stendere qualche puntata di Johnny Bravo Ma questa è un'altra storia Questa famiglia dei Griffin È composta da Peter Griffin Uomo obeso di 42 anni Che è molto stupido e pigro Lois Moglie che È un po' senza offesa Una mezza squillo Però Una casalinga Con un grande talento Che però Tiene sempre soffocato Poi Meg Figlia Molto matura Per la sua età Ma sempre Presa in giro dai familiari Perché sono delle totali Teste di cavolo Ecco Non voglio dire la parola peggiore Poi hanno Chris Figlio ciccione Quanto il padre Ma talmente scemo Che mi domando Ma perché cazzo Hanno partorito sto iota Poi c'è Stewy Griffin Bimbino di neanche due anni Che Ha una mentalità Molto geniale E controversa Ma del resto Certi bambini a volte Hanno sempre in mente Delle idee molto strane Poi per finire C'è Il cane Brian Un cane che Ha solo sette anni Ma Ha la mentalità Di un tipo Dai gusti molto raffinati Grande appassionato di lirica E di letteratura Però È un alcolizzato Ma che cavolo E vivono Tutta questa famiglia Delle avventure quotidiane Che Insomma Sfiorano molto Il ridicolo Però Infatto è che Qua sono presenti Nel cartone animato Moltissime Flashback E citazioni Di roba del passato Fa capire che Seth MacFarlane Adorava i programmi televisivi Di una volta Anche i cartoni Di una volta Ma oltre a questo Cos'è che hanno avuto Hanno avuto Una serie televisiva Che continua Ancora oggi E nonostante tutto Ha subito Pian piano Di miglioramenti Prima era disegnata a mano Poi passata la computer grafica Poi hanno fatto anche addirittura Un crossover con i Simpsons Chiamato The Simpsons Guy In cui Le due famiglie Si incontravano E poi tra l'altro Ha avuto anche molto altro Per farvi un esempio Ha avuto anche addirittura Molte action figure Che vendono soprattutto in America Qua non se le sono filate nessuno Poi viene citato molto spesso In un paio di film Ad esempio Nei due film di Ted Anch'essi diretti Da Seth MacFarlane Poi è stato messo anche addirittura In fumetti addirittura Fatti dalla Titan Comics Poi anche addirittura In un libro Family Guy Takes a Village Idiot And I Married One Che non è mai arrivato in Europa Poi hanno fatto anche addirittura Qualche spettacolo Dal vivo a Las Vegas Poi stanno pensando addirittura Di farci Un film Ma non si sa niente Poi hanno fatto anche diversi spin off Come ad esempio Il Cleveland Show E tutto qua Insomma I Griffinio non conoscono Un declino della loro popolarità Certo possono rappresentare Secondo alcuni La parte peggiore Dei cartoni animati Perché Rappresentano una comicità Molto di bassa lega Ecco Ma Sinceramente C'è qualche cosa di geniale A differenza dei Sound Park E ormai purtroppo anche Dei Simpson Che ormai sono caduti Nella totale stupidità Ma chissà Staremo a vedere Ehehehehe 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 per qualche motivo. Svevi che si diceva, get on the cloud, sarà bello. E tutto ciò che è stato un dolore. Posso farlo? Non ho i propri strumenti. Ma magari possiamo trovare qualcuno che lo fa. Ok, potete trovare a dove siamo? Secondo il multiverse remote, questo è un universo regolato da Grecci. Quindi, cosa significa? Fattori, filosofi e togas? O fattori, fattori, greci e speedos? Oh, sì, Grecci hanno sempre stato grossi e ancora sono. Ma non, non sono questi tipi di Grecci, Brian. È più peggio. È frat, ragazzi! Ehi, questi ragazzi non sono come noi. Get those knob goblers. Crap, Brian, run! Abbiamo trovato un...